hello kids ciao sono mrs spelling come vedrete nelle pagine di questo libro troverete tanti quadratini qr code se li inquadrate col vostro smartphone partiranno dei file audio o dei file video che vi aiuteranno a capire gli esercizi i giochi a ripetere le parole la pronuncia oppure vi faranno vedere le avventure video dei fumbles o cantare loro canzoni ogni quadratino qr code ha un colore diverso different colors che corrisponde a un tipo di file diverso so take your smartphone and have fun divertitevi ciao